Sono allarmanti i dati sulla disoccupazione pubblicati dall'Istat. Nel mese di gennaio il tasso di disoccupazione è balzato al 12,9% rispetto ad una media europea del 12%. I disoccupati italiani sfiorano i 3,3 milioni e il tasso di disoccupazione giovanile, nella fascia compresa tra i 15 e i 24 anni, è stato pari al 42,4%. Un vero bollettino di guerra. Per ritornare a livelli di disoccupazione giovanile pre-crisi, secondo l'Istat, sarebbe necessario creare oltre 4 milioni di nuovi posti di lavoro, uno sforzo assolutamente irrealistico che nemmeno il migliore dei Jobs Act potrebbe realizzare. Proprio il lavoro è stato al centro dell'undicesimo congresso regionale della FIOMCGL, ospitato dalla provincia di Chieti a Rocca San Giovanni. È assolutamente necessario, ha dichiarato Michele De Palma della Segreteria Nazionale, aprire un tavolo di negoziazione per mantenere l'occupazione presente in regione. Dal congresso regionale della FIOMCGL qui in Abruzzo viene una domanda fortissima alle istituzioni regionali e al Governo nazionale di aprire un tavolo di negoziazione che abbia l'obiettivo di mantenere l'occupazione negli stabilimenti presenti in regione, a partire di una implementazione delle lavoratrici e dei lavoratori nella Sevel e a partire anche da una verifica delle condizioni di lavoro dentro gli stabilimenti, perché in questi tempi di crisi, oltre a ridursi i salari, aumentano anche i rischi sui posti di lavoro. Solo nella provincia di Chieti, ha ricordato il neosegretario regionale Davide Labbrozzi, negli ultimi quattro anni sono andati persi 10.000 posti di lavoro. Oggi la criticità maggiore è rappresentata dalla Honda, dove si è passati da una produzione di 175.000 moto del 2008 a 52.000 del 2013. La criticità numero uno per l'industria nella provincia di Chieti ad oggi è la Honda. La Honda che ha subito un dimagrimento sia dal punto di vista dei volumi che dal punto di vista occupazionale, che non solo ci pone di fronte ad un'azienda che è in grande difficoltà e che si sta riorganizzando, ma ci pone di fronte il problema dell'indotto. Decine e decine di piccole e medie imprese che non ce la fanno a sostenere i numeri produttivi così bassi che la Honda propone, insomma, nello scenario industriale. Quindi noi adesso dobbiamo, insieme alla politica, impegnarci affinché si possa salvare questo patrimonio che non è solo un patrimonio dal quale scaturiscono posti di lavoro, ma è una realtà dentro la quale c'è esperienza, tecnologia, ricerca, innovazione e quindi capacità anche di stare a passo con i tempi. Il problema è che i numeri di oggi non sono sufficienti a consentire a questa azienda di sopravvivere. In Savele, per fortuna, ha aggiunto Labrozzi, la produttività tiene, resta invece il problema del rispetto dei diritti. Nelle prossime settimane, a ribadito De Palma, si svolgeranno assemblee in tutti gli stabilimenti, aperte a tutti i lavoratori. Noi nelle prossime settimane faremo le assemblee in tutti gli stabilimenti e faremo votare tutte le lavoratrici e lavoratori sul testo unico sulla rappresentanza. Quindi non solo gli iscritti, ma tutte le lavoratrici e lavoratori. Perché il modello delle relazioni sindacali riguarda tutti, non soltanto gli iscritti alle organizzazioni sindacali.